Network, confronto e crescita. Opportunità, radici. Bellezza, gioia, passione. Unione e forza. Gli alumni sono la parte migliore delle università. Sono una visione reale di quello che potrebbe esserci dopo. Condivisione, appartenenza, tradizione. Condivisione e futuro. Un'ottima occasione per ridare indietro un po' di quello che abbiamo avuto durante gli anni bellissimi a Siena, ma allo stesso tempo continuare a crescere insieme. Una risorsa. Un team multidisciplinare. Una community accogliente. Appartenenza, crescita, opportunità. Usiena Alunni è il network dei laureati dell'Università di Siena. Una forza positiva per la comunità universitaria e per la società. Ispirazione, crescita, testimonianza. Per me l'associazione Alunni è un modo per rimanere vicino a me stesso, prima di tutto, al mio passato, poi rimanere vicino a quelli che hanno studiato con me e poi rimanere vicino a chi sta studiando adesso. Crescere, cambiare, condividere. È bellezza, connessione ed esperienza. È voglia di stare insieme, di creare cose belle per il presente e opportunità per il futuro. Crescere, cambiare, condividere.